Guido Guidesi, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha promesso che nel prossimo Consiglio di Ministri presenterà la sua riforma del lavoro, nella quale dice che diminuirà le tasse e aumenterà i posti di lavoro. Secondo lei è possibile o è l'ennesima promessa? L'ennesima promessa sarà l'ennesima promessa mancata, ormai Renzi lo si conosce, non doveva fare il Presidente del Consiglio farlo solamente passando dal vuoto, invece ha scardinato e ha rubato la poltrona a Enrico Letta, io credo che sarà un'altra promessa mancata, dico questo per due motivi principali, il primo che non è abbassando il cuneo fiscale che si creano posti di lavoro, ma i posti di lavoro si creano facendo girare l'economia e poi il motivo principale è che secondo se i piani di Renzi dovessero essere rispettati servono più o meno 100 miliardi di copertura ed è ovvio che in questo Paese 100 miliardi per coprire questi strumenti non ci sono, per cui se riuscirà farà solo ed esclusivamente quello che ha già fatto Letta, abbasserà il cuneo fiscale ad ogni singolo dipendente di 10 Euro al mese e risulterà l'ennesima presa in giro del Partito Democratico.